che devo farlo eccoci di nuovo a Cernarus con questa bella macchinina vargheggiata qui sopra la casa c'è chi non c'ha una macchina vargheggiata così pigliala pigliala e neanche Simpson provama a salire fa aprire il carrello nooo vediamo il dietro che è questa bellissima texture proprio un realismo unico questa la voglio vedere anch'io eh bella merda non ti fa salire? eh no prova a dargli un colpo col trattore o qualcosa non so se c'è uno da queste parti gli posso tirare il zaino? boh sparagli un colpo? eh e ce l'ho finito ma non sei stato appena adesso alle casse eh si ma ho fatto salta tutto con la bomba tubo e basta ma le casse c'erano ancora? no sono svanite insieme alla tenda io le vedevo mi stai prendendo in giro quell'isla? no no te lo giuro mi stai spendendo anche la pila della torcia sarà che ho caricato la morfina dentro la pistola ah ecco ti sono incastrato in un cespuglio come fai? eh non riesco a togliermi non si toglie basta ma dai non si buona qui da un uccello non si buona qui da un uccello ti serve una badante ah ok si è tolto via peraltro ho una notizia importantissima mentre questo mio mino qui è in preda gli orgasmi e qui a Cerna Russo ci sono delle prostitute ma è il contrattore? eh quello dicevo eh quello dicevo magari si è incavolo tu eh ci sei passato appena a fianco allora se la fai dentro? ok nooo non ce posso credere si è incastrato no è morto ma hanno girato all'angolo morto non mi trata ma non mi trata davanti al piedo Mi dà che sei ancora vivo Ma dai Sono ancora vivo così Sta con gli occhi qui che vanno e vengono E' ingrazzante sta cosa